Roberto Pabbalardo tra i protagonisti della bella vittoria contro l'Adri a Bari dello scorso weekend come vi sentite dopo questa vittoria? Siamo molto carichi, ecco, le patine va subito Non ti preoccupare, dai Roberto andiamo Siamo molto contenti Dai ragazzi, e dai, facciamo una cosa seria Siamo molto contenti e carichi soprattutto perché siamo 13 su 13 e speriamo di continuare su questa striscia Senti Roberto, sabato vi aspetta veramente un bel big match contro la Matteo Ticcurato Come te lo aspetti? È un match di veramente intenso, con molta fisicità nel quale però noi siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo per mantenere il nostro trend